Uno dei collaboratori e soprattutto uno degli ideatori che ha creduto maggiormente in questo progetto in tempi anche lontani. L'importanza di questa collaborazione tra l'Università di Salerno e l'Università Cattolica di Bogotà? Io credo che per l'Università di Salerno è importantissimo perché stiamo esportando un modello didattico all'esterno come questo nostro master che è configurato come una laurea magistrale. Soprattutto stiamo impiegando giovani dottori che non troverebbero spazio viste le condizioni dell'Università italiana e come dicevo più di una ventina di cui 6 o 7 in Colombia e altri in altri paesi dell'America Latina hanno trovato un buon posto di lavoro di gran lunga migliore che quello che avrebbero trovato qua a parità di condizione. Per quanto riguarda l'Università Cattolica e l'Università Latinoamericana stiamo portando tenete presente che un giovane dottore costa centinaia di migliaia di euro allo Stato italiano e poi dovrebbe essere parcheggiato senza fare niente e invece così si rende utile a questi paesi in via di sviluppo verso i quali abbiamo una grande responsabilità culturale di emigrazione. Il Rettore ha ricordato che i primi emigranti italiani alla Colombia venivano proprio dalla provincia di Salerno. Ospite quest'oggi all'Università di Salerno il Rettore dell'Università Cattolica di Bogotà a sancire una collaborazione sempre più attiva tra i due Atenei. Sì, oggi ne abbiamo conferito il Master ad Onorem in Scienze Politiche credo a testimonianza di questo rapporto che era mai decennale con l'Università Cattolica di Colombia che ha portato risultati importanti. Noi abbiamo lì realizzato, realizziamo e realizzeremo in questo momento un Master tipo universitario diciamo in Scienze Politiche ed altre sono in cantiere per altri saperi che hanno diplomato nel tempo oltre 100 persone e abbiamo un gruppo di nostri dottori di ricerca, insomma persone che abbiamo formato a nostra università che sono docenti utilizzati nei corsi lì oltre ai nostri diciamo docenti strutturati che partecipano all'attività del Master. È un'attività importante perché da lì, diciamo da quel tipo di questo contatto all'Università e oggi ce lo conferma anche la rappresentante dell'Istituto del Latinoamericano stiamo diciamo entrando avendo relazioni stabili anche con altre università della Colombia tenendo presente che per noi sicuramente è un'area in cui abbiamo investito e dovremo investire perché vicino a noi culturalmente e soprattutto anche dalle parole che abbiamo sentito oggi dal Rettore e dall'Ambasciatore colombiano in Italia è un'area in cui diciamo apprezzano molto l'Università e l'Italia più in generale. Con il magnifico Rettore dell'Università Cattolica di Colombia, di Bogotà qui, oggi in Salerno, per ricevere un Master d'Onore e per rinforzare la collaborazione tra le due università. Sì, possiamo parlare spagnolo, sì, io credo che prima grazie a l'Università di Salerno per questo honor che mi fa, anche come alma mater perché sono dottor di l'Università anche in Scienza Polizia e questo è un riconoscimento a la lavoro che stanno facendo le due università, Salerno e la Catolica di Colombia, per migliorare i programi che abbiamo in conjunto, specialmente in Scienza Polittica e ora iniziare in una maestria in Ingenieria e molto probabilmente in una maestria in Derecho. E' un po' iniziare iniziare a estrechare i lati tra la comunità salernitana e la comunità di Bogotà. Il signore ha detto che le soluzioni per la Colombia sono possibili trovare in Italia. Il signore ha detto una cosa molto certa, che io credo che la esperienza che ha l'Italia da l'epoca della posguerra, della seconda guerra mondiale, con il suo grande sviluppo economico e anche con il suo grande sviluppo tecnologico e anche dal punto di vista delle scienze humani, io credo che può aiutare e possiamo vedere anche la latinità, perché a volte stiamo prendendo modeli del nord e dell'Europa, modeli di sviluppo che per la latinoamérica sono molto importanti e che io credo che lo stiamo applicando e è lo che queremos.